esci fuori dovessi ritrovarti in spiaggia appena è finita che figata ora che figata sono fuori wow ok lo vedi il castello la in alto castello sia la sinistra o destra e c'è no c'è l'albero ea sinistra c'è il castello su quella rocca ok ecco lì e dove dovremmo andare dove c'è margit e noi dobbiamo poi entrare lì margit è più o meno in quella zona poco prima del castello e se tu guardi dopo il castello c'è quel quella specie di chiesa subito tutta in alto con quel ponticello esatto lì è dove abbiamo iniziato il gioco se non ricordo male quella è la zona iniziale adesso girati vai su di qua e troviamo una chiesa aspetta girati aspetta mi giro a modo su vai su di lì e dovrebbe esserci anche una grazia direi di prendere la grazia e capre se le uccidi dovrebbero darti delle ossa sottili o sottili animali che puoi usarle per fare le frecce ora non mi ricordo con quale ricettario puoi fare le frecce a io posso far ridar di dos adesso ma le capre rotolano si le capre rotolano hanno questo brutto vizio non farti domande rotolano e basta allora se entri nella chiesa si è entrato nella chiesa della comunione draconica ok c'è la grazia questa cosa ci servirà più avanti se vogliamo intraprendere un determinato cammino io ti ho portato qua perché solitamente ci sono degli oggetti ma mannaggia la zozza in questa chiesa qua non c'è un cacchio c'è un altare si esatto se tu vai sull'altare ti fa vedere quello che puoi prendere ci sono le unione draconica esatto ci sono delle magie in teoria sì sì esatto e che però non puoi ancora prendere ovviamente perché non ti è concesso allora una volta fatto questo io pensavo ci fosse qualcosa invece non c'era niente quindi possiamo tornare indietro io andrei dal mercante quello che c'era prima della grotta quindi ci spostiamo e andiamo a finire nella caverna costiera andiamo a prendere quell'affare la del veleno quindi devo trasportarmi sulla caverna giusta caverna costiera esatto usciamo e andiamo da quel mendicante che c'era qua fuori e vai a comprare i boli verdi che servono per l'avvelenamento perché ci serviranno ok quindi si va dal mercante allora hai detto di prendere i boli neutralizzanti ok presi allora adesso aspetta che ti dico anche se ti conviene prendere il ricettario no io l'ho comprato ricettario del maiolo comprano perché ti puoi usare puoi crearti le frecce però te le fa creare incendiarie vabbè ossa sottili di animale così conosco sottili di animale e frecce ardenti e farfalle ardenti puoi crearti le cose lo direi che non è male possiamo anche crearci i boli adesso direi che ricettari man mano che andiamo li possiamo comprare tranquillamente poi equipaggiamento mettiti i boli vicino alle cose vicino dove vicino alle ampolle e così quando schiacci la freccia bassa hai le ok hai le cose ok adesso hanno aspetta adesso prima di andare via facciamo ancora una cosa i dardi cosa servono i dardi no per per le balestre se non sbaglio allora prendi torrente e continua per per la spiaggia corri e corri proprio evita qualsiasi cosa continua ad andare avanti arriverà in un punto dove vedi per terra dei simboli dei segni luminosi ok dal mercante davanti al mercato dove siamo morti prima che ci hanno ci hanno invaso continuando avanti dalla spiaggia arriverà in un punto dove ci sono proprio dei mamma mia che culo li vedi dei simboli luminosi che che appaiono per terra ok fermati nel in uno dei passaggi dove sai che passerà lui fa sempre la stessa strada e mentre sta per arrivare lo colpisci a chi è così qua no 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 vai avanti vai avanti vai dove ci sono i simboli luminosi per terra ma proprio un percorso così per terra ok sì 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 ok ok lui fa sempre lo stesso percorso fermati in un punto dove c'è appena passato e sicca gli sberle appena torna così almeno riesci a prendere qualcosa ma va a cagare ma qua c'è uno che mi sta facendo il culo ma che cazzo devo colpire poi io o sei ancora riuscito no non capisco cosa colpire e stai fermo stai fermo proprio sul sulla strada che fa appena ti si avvicina prima che si avvicina colpisci a cavallo di torrente no 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 scendi giù perché sono scleri ai fatti e se ce la fai e se no poi lo facciamo un'altra volta e andiamo avanti adesso sono sceso però cavallo non è no no a cavallo un po' un casino e adesso ragazzi cosa ti faccio fare proviamo a fare margit ma no dobbiamo andare a fare la catacomba o non riesco a pencarlo io ho preso il primo colpo vabbè dai torne torni poi un'altra volta lo fai voglio prendere nel frattempo me ne vado torno a cimitero abbandonato ce l'hai fatto preso era ora quindi dove torno adesso cimitero abbandonato inter abbandonato mappa davanti caccombre di acqua fresca no no cimitero abbandonato si chiama proprio vicino a primo passo adesso io ti butto simbolo della spada uso il simbolo qua e via perfetto adesso abbiamo sbloccato il passaggio è già sbloccato ha usato uno o due chiavi una ho visto sì ok hai preso la chiave a dopo l'uso hai perso hai perso la chiave hai perso ok beh io ho messo il simbolo di parterra allora davanti alle statue ne hai frecce vero e ne ho quattro e basta che ne hai adesso cerchiamo di non sprecare vite e andiamo a fare una cosa dovrai correre qua e te lo dico professionista di 100 metri e si dovrai correre perché saranno cazzi allora qua adesso sono veramente cazziamo amare io spero che possiamo farla in due questa cosa cimitero abbandonato vai andiamo appena scendi qui è tutto veleno devi correre ti seguo usa i boli appena ti avvelena sarebbe i boli con sarebbe e qui così verdi che abbiamo preso e ne ho uno solo io corri 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 qua corri vai 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 vieni di qua vieni qua ok vieni vieni ok ti avvelenato no no è la resistenza buona allora a me mi avvelenato aspetta un attimo devo fare una cosa oh ma che bello che sono porca vacca mi son cagato addosso allora adesso devi torna indito torna indito torna indito che torna giù adesso dobbiamo correre e infilarci negli anfratti vai primo fratto che trovi a destra a sinistra entraci dentro e aspetta io sono andato giù ho stato troppo ce l'ho fatta mamma mia è rischiato mamma mia sono rischiato e sospettiamo che torni giù e appena passa vaffanculo guardate si adesso devo combattere questi dementi perché ci provare mai più aspetta 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 adesso aspettiamo e dobbiamo correre qua vai 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 un fratto 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 mostro mostro è morto occhio occhio ancora ha detto no no te indietro sei indietro va a cagare bastardo o ancora io stai allora aspetta adesso dobbiamo fare una cosa veramente lurida dov'è aspetta che torna su poi corri giù veloce e ritorniamo a buttarci negli anfratti ora che poi lui gira viene di qua e corri 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 si corri vieni credevo che non venisse no 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 poi lui si gira perché vede che siamo andati sotto sto infame guarda lì bastardo ok corri 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 in mezzo è in mezzo che lì si cade mi ha preso però come dovevamo andare su un fratto io ero con me ma che cazzo ma porca vacca questa vabbè io ti rimetto il dito qua ma porca di quella zozza ma che palle come due pirla ma sì ero convinto che non andasse più giù di lì per quello quando siamo andati sotto l'ho visto fermarsi ed ero convinto si fermasse lì invece il merda continua va bene dai vediamo se riesco a farti prendere quest'arma e poi e poi quando vuoi stacchiamo si si poi stacchiamo ok evocazione io vado giù intanto si si vai pure questa è una cosa fighissima da fare perché se tu non lo sai non lo sai ma se lo scopri è una figata cosa c'è un modo per sconfiggere quella faccia di merda gli arco no no sì devi usare l'arco in effetti aspetta 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 ok io sono avvelenato usiamo il bolo e vi facciamo mica più fottere hai visto che i pantaloni sei contento ok non c'è più un culetto all'aria occhio aspetta ti lascia a scampo vai 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 andiamo da questa parte che c'è il nemico ok no eh guardalo lì vai 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 no no aspetta stai qua 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 ti ho visto andare troppo convinto vai corri 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 no non dovevamo andare adesso corri salta faffanculo vai giù aspetta un attimo faccio oh c'è un altro aspetta oh 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 vaffanculo sei morto sì eh stai di cazzo adesso andiamo di là adesso cazza robbiola va bene dai allora facciamo una cosa figa adesso però io adesso non ho più i boli non importa va bene non importa non importa ti avvelena passa il veleno dopo si si passa ma con con le pozioni di vita che ho dovrei riuscire a farlo simbolo di evocazione se non sbaglio se rotolo dovrei fare più veloce e dovrei arrivare senza avvelenarmi già messo il dito si si l'ho messo ne ha solo tre di evocazioni e vedremo di farcela dai c'è una grazia in questo posto ma è tutto in fondo quindi non ce la facciamo va bene dai riproviamoci ho marchiavato in sto gameplay un post abbiamo fatto sì infatti proprio proprio male non ci va due boss allora vai niente se faccio così mi avveleno ancora più velocemente aspetta dove vai è sto qua tanto non dovrebbe arrivare più avanti di così le ultime parole famose vai 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 chiamo sinistra sinistra destra 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 scusa adesso compare di l'infame no però io adesso soltanto cazzo occhio occhio ho soltanto due vite ce l'ho soltanto due cure quindi io muoio ma lo smette lo smette dopo un po' allora adesso seguimi sinistra sinistra seguimi eh ah ok si seguimi proprio vai giù ok vieni giù di qua girati girati vieni giù di qua bravi di lì di lì di lì di lì vado giù si ok boh adesso qua siamo tranquilli per un po' vabbè a parte il fatto che dobbiamo uccidere questi ok vai 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 e io sono morto però non troviamo qualcosa sono morto devo fare in fretta per questo porca troia arco 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 2 aspetta devo fare devi colpirlo la, devi colpire non mi ricordo come si fa però ok, io corro avanti perché così almeno cerco di capire dove devo andare, sono morto ah, stai morendo si, devi andare tutto avanti devi scendere di qua mi sembra no no no, aspetta, non scendere guarda se c'è una scalinata poco più avanti ma non credo sai devo passare il ponte, si si ce l'è devo passare il ponte Rocco ma c'è una scala che va su lì? dove? no, non c'è, allora devi no, perché se attraversi il ponte non succede nulla devi buttarti di sotto se non sbaglio e una volta che ti butti di sotto devi trovare una strada, qualcosa per fare per salire, in poche parole ok? quindi se passo il ponte non c'è nessuno all'altra parte, giusto? esatto, no, arriva un nemico abbastanza bastardo quindi secondo me, se dopo il ponte non c'è niente, ti conviene buttarti di giù porca troia due eh, te l'ho detto ok, sono giù ok vado sempre più giù e dovresti trovare a un certo punto una scala che ti porta in alto adesso non mi ricordo bene dov'è qua non c'è niente vado ancora giù cazzo ah, senti, facciamo una cosa cerca di stare in un punto sicuro stai in un punto sicuro eh? sono caduto sull'acqua e c'è una scala che va su ok, cerca di stare in un punto sicuro io ti raggiungo adesso così metto il dito lì adesso c'ho 5 ampolle quindi io col v aspetta aspetta dammi da qualche parte lì io arrivo fida di che arrivo sei andato sotto ok stai fermo lì io arrivo vengo a buttarti il dito direttamente lì tanto adesso con eh, lo so adesso con 5 ampolle io ce la faccio sopravvivere il problema era prima che non riuscivo a sopravvivere vaffanculo